Si confessa dal prete e restituisce più di 200 monete al parco archeologico di Pestum e questa è l'ultima di una serie di restituzioni che stanno avvenendo da parte di persone che, mosse dal rimorso, hanno deciso di riconsegnare quanto sottratto in maniera illegittima alla pubblica fruizione. Ma ad ammantare di ulteriori significati questo specifico episodio sono le modalità con cui sono stati restituiti i reperti. Sotto il manto del segreto confessionale, infatti, un anonimo avrebbe fatto recapitare per il tramite del sacerdote confessore di una parrocchia locale una busta con il bottino in questione, chiedendo di consegnare le monete personalmente al direttore Zucriegel. Si tratta nello specifico di 208 reperti numismatici che, come ha analizzato l'esperto dell'Università di Salerno, il professore Federico Carbone, contenevano anche ben sette falsi. Delle restanti 201 originali, cinque invece sono in argento, una medaglietta in alluminio e le restanti in lega di rame. Tra le monete si distinguono due insiemi piuttosto omogenei. Il primo è rappresentato dai bronzi della zecca di Pestum, soprattutto esemplari dal III secolo a.C. e fino all'età augustea. Il secondo è composto da follis e frazioni di follis, compresi tra la metà e la fine del IV secolo a.C. Non mancano alcuni bronzetti di Poseidonia, di Velia e di media età imperiale. Soltanto un paio di monete, invece, sono moderne. Secondo il direttore del parco, ora verranno reinserite in un contesto di illegalità, ricerca e musealizzazione. Il nostro appello, ha detto Zucriegel, a chi dovesse nascondere reperti archeologici in casa, è di seguire questo esempio e di restituire, oltre agli oggetti, la storia che raccontano al nostro territorio.